Secondo me ci vuole che Ellie Schlein diventi segretaria, perché con lei segretaria il PD può tornare a vincere, anche perché dall'altra parte abbiamo la destra più destra di sempre, quindi chiaramente serve una linea politica progressista di sinistra che possa anche far ritornare a casa tante persone che non si sentivano più rappresentate e tanti giovani che stanno a guardare. Il PD ha perso le elezioni ma non è stato l'unico partito a perderle, altri partiti hanno dimezzato il consenso e si comportano come se avessero vinto, quindi io penso che noi stiamo facendo un esercizio democratico molto importante, ci siamo rimessi in discussione, è un congresso speciale perché è costituente e quindi abbiamo riscritto anche la carta dei valori, dei principi, il nostro manifesto che non poteva più essere quello di 15 anni fa perché il mondo nel frattempo è cambiato e una comunità si deve ritrovare su principi e valori da condividere, quindi non trovo veramente giuste le ironie, i sarcasmi che ci sono stati, forse i commentatori che criticano il PD hanno in mente un partito del capo, un partito personale, ma per fortuna il PD non è così e io difendo il nostro spazio di confronto democratico. Io penso che Elie Schlein rappresenti la figura più innovativa di tutti, anche perché è una figura estranea, diciamo, ai meccanismi interni e ci vuole un reale rinnovamento, qui bisogna veramente dare una identità chiara e netta al PD e per fare questo, secondo me, ci vuole che Elie Schlein diventi segretaria, perché con lei segretaria il PD può tornare a vincere, proprio perché la sua mozione, il suo programma è chiarissimo e quindi questo è quello che le persone vogliono, chiarezza, posizioni politiche nette, anche perché dall'altra parte abbiamo la destra più destra di sempre, quindi chiaramente serve una linea politica progressista di sinistra che possa anche far ritornare a casa tante persone che non si sentivano più rappresentate e tanti giovani che stanno a guardare. Elie Schlein è una figura molto contemporanea, si occupa dell'ambiente, dei diritti, del lavoro, fa battaglie che interessano le persone e soprattutto interessano i giovani, il futuro. Giorgia Meloni sul caso Del Mastro e Donzelli ha deluso enormemente, ha dimostrato di essere un leader di partito, ma non una presidente del Consiglio, ha dato la precedenza al suo partito. Del Mastro e Donzelli, con ruoli istituzionali importanti, hanno dimostrato di non saper svolgere quei ruoli, di essere inadeguati, quindi hanno diffuso informazioni sensibili e riservate e le hanno diffuse per attaccare gli avversari politici, in particolare il Partito Democratico. Devo dire che tutte le opposizioni si sono risentite, ribellate di fronte a questi metodi veramente squadristi di fare politica, dunque queste due persone non possono rimanere al loro posto e devono dimettersi, perché altrimenti si creano dei cortocircuiti istituzionali molto pericolosi. Il governo in questi 100 giorni ha dimostrato di non risolvere i problemi reali delle persone, non si è occupato per esempio dell'inflazione, non si è occupato del lavoro povero, non si è occupato del fatto che tante persone non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Ha trovato un nemico al giorno il governo per sviare l'attenzione, una volta sono i ragazzi dei rave, un'altra volta sono le ONG, un'altra volta sono i migranti, un'altra volta ancora sono i benzinai e così via. Il mio giudizio è negativo, dal punto di vista dei diritti civili direi che è la pagina più buia. Abbiamo una ministra, la ministra Roccella, che dice che l'aborto non è un diritto, c'è la legge 194. Opzione donna, ad esempio, l'hanno ridotta ai minimi termini. Una presidente del Consiglio donna che va a incidere negativamente su delle misure a favore delle donne. Devi avere così tanti criteri che alla fine neanche 3.000 donne potranno accedere alla riduzione dell'età per andare in pensione e poi dipende dal numero dei figli, quindi altamente discriminatorio. Hanno tolto la certificazione di parità per le aziende nel codice degli appalti, anche questo lo trovo gravissimo. E un'altra cosa tremenda è che ci sono ben 5 disegni di legge per dare la capacità giuridica al concepito. Questo vuol dire che se una donna è costretta o vuole abortire, è come se commettesse un omicidio, quindi una criminalizzazione totale delle donne. Dunque, dal punto di vista dei diritti delle donne, questo dimostra che non basta avere una donna a capo del governo per fare misure a favore delle donne. Ci vuole una donna, ma che sia anche femminista. E Giorgia Meloni non lo è. Non le interessa di portare avanti le donne di questo paese e di dare migliori condizioni di vita alle donne di questo paese. Il governo non ha alcuna strategia sui migranti. Il governo non ha una politica migratoria né una politica di gestione dei flussi migratori. Il governo, come al solito, ha bisogno di un nemico. Quindi si scaglia contro le ONG per fare in modo che queste vengano messe fuori gioco, cioè non farle più operare, non far più salvare vite umane e quindi non avere più occhi per vedere quello che succede in acque internazionali. Chiaramente, se mancano le ONG, mancheranno i soccorsi, ci saranno più naufragi e ci saranno più vittime. Io trovo scandaloso che un governo, uno Stato di diritto per gestire i flussi migratori si affidi ai naufragi e alle morte in mare. Lo trovo veramente contro ogni convenzione internazionale, contro la nostra Costituzione, contro il diritto della navigazione che abbiamo, ma anche contro l'umanità. È qualcosa di veramente disumano. Grazie a tutti.